Avanti tutta, con determinazione, coraggio, buon gioco e passione, la Green Bowl e Galatone vince ancora, non si ferma più e si porta momentaneamente al primo posto in classifica a quota 15 punti. Altri punti fondamentali per il morale e per la classifica di Salentini nel girone H del campionato maschile di volley di B, ancora in trasferta dopo il successo ottenuto a Leverano. La partita contro Bolle a Fragole è stata difficile, lunga e sofferta per i ragazzi di Cocciutonino Cavalera che hanno vinto con i seguenti parziali 25-22, 20-25, 23-25 e 18-25. Dunque Galatone ha vinto per 1-3 mettendo a terra i palloni utili per volare alto. Ben 15 punti in 6 gare, una media da primato, ma adesso bisogna archiviare la gara di ieri per preparare al meglio l'atteso Big Match casalingo di domenica prossima a Tuglie, con il Grottaglie. Scontro diretto questo per lottare per il primo posto assoluto in campionato e le premesse per fare bene ci sono tutte.